Avvio alleato in sorvolo, avvio scansione radar. Corretta robot, danni in mano nostra. Ricarico. Centrato. Tocca a te morire. Siamo su Alpha, attendere. Siamo su Bravo, attendere. Prendiamo Alpha. Aiuta la squadra presso. Abbiamo presso Alpha. Alpha in mano nostra. Guardiate altri per il volo, avvio scansione radar. Serve supporto a Charlie. Attacco a grappolo alleato in arrivo. Grazie.